Ciao ragazzi, bentrovati! In questo video voglio mostrarvi come risolvere il problema più dannoso che possiamo creare nel momento in cui andiamo a ricaricare le nostre munizioni, con relativa perdita di precisione delle munizioni stesse. Lo faremo nel modo più semplice così che possa arrivare a tutti quanti. Cominciamo! Tutti quanti noi nel momento in cui ci avviciniamo al mondo della ricarica lo facciamo prettamente per una questione economica, per cercare un vantaggio economico e risparmiare qualcosa nella creazione delle nostre munizioni. Ben presto però questa cosa qua cambia e cominciamo a cercare con infinite ore di test e di prove il miglior rapporto qualità prezzo, dove per qualità intendiamo la precisione assoluta. In tutto questo però ci dimentichiamo, o meglio, soppresediamo su un argomento molto importante che genera un errore gravissimo risolvibile in un semplice passaggio e con una spesa ridicola. Prima di arrivare alla soluzione finale però, cerchiamo di capire da dove nasce e come si genera questo problema. Quindi partiamo due minuti e rivediamo un po' le varie fasi di ricarica, cosa che servirà a tutti quanti. Nel momento in cui iniziamo la ricarica partiamo da un bossolo già utilizzato, che dovrà essere lavato e ricalibrato e disinnescato. Dovrà essere ricalibrato perché le pareti del bossolo stesso subiranno una deformazione a seguito dell'esplosione. Ora, senza entrare troppo nello specifico e quindi parlare di materiali, tolleranze, camere di cartucce e quello che succede al bossolo, del tipo di deformazione che viene al bossolo. Ci interessa solo sapere che, esageriamo un po' il concetto, da un bossolo che una volta sparato avrà subito una deformazione, dovremmo andare a ricalibrarlo e quindi a riportare idealmente le pareti il più dritto possibile. Nel fare questo, il dice che va a ricalibrare tenderà a stringere e quindi a sottodimensionare un pochettino il diametro del bossolo stesso. Consideriamo ora che il bossolo passerà alla stazione successiva, dove verrà reinnescato e sarà quindi pronto a essere ricaricato. Arriviamo quindi alla stazione del dosatore. In questa fase il bossolo riceverà la dose di ricarica di polvere da sparo e verrà svasato per consentire l'inserimento della palla. Tutto questo viene fatto dal funnel. Il funnel è un componente che troviamo all'interno del dosatore della polvere e qui iniziano tutti i nostri problemi. Vi spiego perché. Nel momento in cui andiamo a creare l'invito necessario alla palla, quindi la svasatura, il dice originale andrà a creare una cosa di questo tipo, quindi andrà ad allargare il colletto del bossolo per permettere appunto l'inserimento della palla. Ora, questa è l'altezza a cui dovrà arrivare la nostra palla. Quindi, se questa è la palla, ok, vuol dire che da qui a qui la palla dovrà essere inserita all'interno del bossolo. Nel momento in cui noi andiamo a creare questo invito e andiamo ad inserire la palla, ok, che arriverà qui, nella fase successiva, quindi allo step successivo, un altro dice avrà la funzione di andare a forzare l'inserimento della palla per portarla all'altezza desiderata. In questa fase sarà la palla stessa che dovrà forzatamente andare ad allargare il bossolo, cioè nel momento in cui noi andremo ad agire sulla leva della pressa e quindi andremo a creare una forza molto molto importante, la palla in quel momento lì sarà costretta ad andare ad allargare le pareti che fino ad ora erano rimaste in questo punto, erano rimaste alle dimensioni originali, anzi alla dimensione per cui è stato ricalibrato il bossolo. In questa fase si genereranno due problemi, il primo problema è con le palle più morbide, quindi quelle non rivestite tipo il piombo. Il piombo in questa fase nel momento in cui andrà inserito forzatamente tenderà a deformarsi lui prima del bossolo, quindi quello succederà che nel momento in cui le pareti del bossolo in questo punto saranno più strette, il materiale in più, quindi il piombo in più tenderà ad uscire da sopra. Nel momento in cui poi arriveremo al dies, addetto al crimpaggio, quindi alla sigillatura del colpo, andrà a trinciare letteralmente la parte di piombo che troveremo in più e questo comporterà il risultato di trovare quelle unghiette, quei pezzettini di piombo sullo shell plate della pressa. A questo punto è chiaro che la palla avrà subito una deformazione, quindi se le dimensioni originali della palla devono essere queste e questa è la porzione di palla che è stata inserita all'interno del bossolo, nel momento in cui questa ha subito una deformazione e quindi una riduzione di diametro perché entrando nel bossolo forzatamente abbiamo asportato, abbiamo tolto materiale, questo sarà il nuovo diametro e non più quello originale per cui è stata progettata. Di conseguenza quello succede che per tutto il tempo di percorrenza canna la palla non andrà più a contatto con la canna per seguire il passo di regatura quindi per tutta la sua lunghezza, ma avrà solo un minimo di contatto. Cosa succede qui? Succede che se abbiamo una canna con tolleranze molto buone e una palla di qualità che si è rovinata poco avremo una riduzione, una perdita di precisione abbastanza contenuta, ma se la palla era troppo morbida e quindi ha subito una forte riduzione del diametro o la canna della pistola non era di ottima qualità oppure è usata e quindi è stata un po' più lasca, il passo di regatura non sarà più seguito nella maniera corretta quindi la rotazione impressa alla palla non sarà quella sufficiente per poter mantenere la stabilità, ne consegue che avremo una perdita di precisione. La stessa cosa succede poi anche con le palle più dure, quelle blindate piuttosto che quelle rivestite in rame ramate. Nel caso delle blindate quindi con un rivestimento molto più spesso avremo un effetto, una perdita di precisione più ridotta in quanto la riduzione di diametro sarà più difficile da riuscire ad imprimere anche se anche in quella condizione purtroppo c'è la possibilità di riuscirci di farlo. Ma con una palla ramata può succedere benissimo. Il risultato non sarà quello che avremo materiale che andrà a far uscire ma sarà quello che nella fase in cui andiamo a imprimere forza con la leva della pressa e quindi abbiamo un momento molto molto forte andiamo a creare una grande pressione. In quella fase la palla subirà comunque un ristringimento dato dalla costrizione che otterrà. Il risultato sarà lo stesso avremo una riduzione del diametro quindi una superficie molto più corta diciamo che andrà ad appoggiare per tutta la lunghezza della canna rispetto a quella per cui la palla stessa era stata progettata e questo è valido sia per palle round nose che per palle troncoconiche o per tutti gli altri tipi di palla che ci sono. A questo punto è chiaro che l'unico modo che abbiamo per mantenere la qualità quindi la precisione della palla è quella di rimane di mantenere le sue dimensioni originali. E come facciamo a mantenere le sue dimensioni originali e non subire questi schiacciamenti che abbiamo visto? Molto semplice dobbiamo cambiare il funnel. Questo è il funnel della Shooting Technology che è un'azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di componenti per la ricarica sportiva. Qui sotto in descrizione trovate il link al loro sito. Hanno creato questo nuovo funnel che differisce da quello originale per dimensioni sostanzialmente quindi oltre alla lunghezza totale che a noi poco interessa volevo farvi vedere ho fatto due segni nel punto in cui inizia la svasatura volevo farvi vedere la differenza che c'è di altezza raggiungibile cioè in questo caso riusciremo a svasare solo fino a quel lì prima di avere l'effetto conico vero e proprio mentre in questo caso avremo la possibilità di andare molto più in profondità prima di ricevere l'effetto conico in questo punto. In questa fase inoltre sono stati inseriti almeno tre diametri diversi di svasatura. Questo permette appunto di avere una svasatura del bossolo più progressiva e lineare e uno dice sì e la differenza quindi cos'è? Adesso la vediamo insieme. Dunque ripartiamo dal nostro bossolo. Abbiamo detto che il nostro dies originale ci creava una svasatura di questo tipo e che si fermava qui perché abbiamo visto la lunghezza del funnel originale permetteva una svasatura molto più contenuta rispetto a quello della Shooting Technology quindi se questa è l'altezza a cui deve essere inserita la palla e questo l'altro bossolo che prendiamo in considerazione nel momento in cui andiamo a usare il funnel della Shooting Technology che ci permette di svasare con diametri diversi progressivi e per una lunghezza maggiore riusciremo a creare una svasatura non più così ma una svasatura di questo tipo. Quindi in questo caso la palla riuscirà ad essere alloggiata senza essere forzatamente inserita come invece succedeva in questo caso. La palla verrà solo portata all'altezza corretta ma sarà arrivata al punto stabilito fra virgolette senza ricevere quelle pressioni che creavano le deformazioni che abbiamo visto prima. Di conseguenza una volta che la palla tornerà in canna avrà la sua dimensione originale e quindi rimarrà adesa per tutto il tempo di canna alle pareti della canna stessa prenderà la giusta rotazione, manterrà la stabilità e quindi andrà via dritta. Ragazzi ora vi voglio far vedere una cosa non è corretta però vi spiego cosa sta succedendo, cosa è successo e vi spiego perché voglio farlo vedere Quando ho smontato il DICE originale, quindi ho aperto il dosatore, ho smontato il DICE originale Dillon e sono andato a inserire quello di Shooting Technology chiaramente avendo altezze differenti avremo poi bisogno di andare a regolare un po' il DICE non sapendo di quanto dovevo regolarlo ho messo su un bossolo e ho provato a vedere cosa succedeva e questo è il risultato. Ripeto, non è così che deve essere svasato un bossolo questo è un errore, è un errore dovuto dal fatto che il DICE e il fan che sono andato a inserire non era settato correttamente quindi era troppo basso, è andato troppo oltre e il bossolo da questa lineetta in su ha ricevuto l'effetto puramente conico del DICE cosa sbagliata, il DICE deve arrivare a svasare fino al segno che vi ho fatto e quindi il risultato sarebbe quello che troviamo fra i due segni vi ho fatto i due segni per riportarvi e farvi vedere quanto riesce a svasare in maniera progressiva perché riuscite a vedere lungo le pareti anche i diversi diametri, spero che si riesca dal video volevo fare vedere appunto per quanto, per tutta la lunghezza che riesce ad aprire, a svasare in maniera progressiva il bossolo, questo funnel rispetto a quello originale questo ci permetterà, come vi ho dimostrato alla lavagna di poter alloggiare la palla completamente senza dover andare a costringerla e creare la riduzione di diametro che abbiamo visto prima con tutti gli effetti collaterali quindi visto il costo che ha questo componente e visto il rapporto qualità prezzo e la resa che ci dà questo è uno di quei componenti che mi sento assolutamente di consigliarvi quindi è una di quelle spese da fare andate sul sito, trovate il link qui sotto andate a vedervi quanto costa e decidete se comprarlo però a parer mio è uno di quei componenti che veramente fanno la differenza e ripeto per il prezzo che hanno non c'è da pensarci su due minuti siamo riusciti ad abbinare ad una video recensione anche qualche aspetto tecnico cosa che riprenderemo in mano in altri video quindi vi invito a rimanere aggiornati iscrivendovi al canale qui sotto è gratis ve lo ricordo iscrivetevi e cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche che vi arriveranno tutte le volte che pubblicheremo un nuovo video mettete un bel like se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao ciao ciao